Seppur un Napoli non fantasmagorico, appunto i partenopei hanno la meglio sul Milan per 2-0 a San Siro. Risultato molto importante per la squadra di Conte, ma si sa che Conte è il maestro di queste situazioni, squadra di costruzione e fuori dalle coppe. Appunto in queste situazioni l'allenatore può concentrarsi maggiormente sul campionato, su una squadra che comunque dopo lo scudetto della stagione 22-23 deve riprendersi nella stagione 23-24 che è stata devastantemente negativa e comunque insomma grazie a ottimi inserimenti in squadra il Napoli appunto è lavoro in corso, quindi commette lo stesso Conte, sta migliorando giorno per giorno. Secondo me Conte è andato anche un pochino sulla difensiva nel dire che nessuno si aspettava questo Napoli, se il nostro obiettivo è entrare in Europa, se ce la facciamo nella porta principale meglio. Insomma, secondo me ok che i lavori sono tanti da fare, ma ripeto, secondo me Conte è stato molto conservativo. Ma comunque un Napoli che ha avuto la miglia sul Milan non giocando benissimo, nel senso che è stato guardingo, attaccato quando doveva attaccare, ha saputo sfruttare gli eroi degli avversari, perché adesso andremo a analizzare anche entrambi i gol e ci sono stati errori sui piedali da parte quelli del Milan, per il resto il Napoli è stato bravo e fortunato, bravo e ordinato a difendersi, ma anche in parte fortunato perché il Milan veramente si è mangiato via di Dio. Certo, eroide mianisti, però è anche vero che mette insomma qualche ottima parata alla fatta. Insomma, il Milan l'ha un po' graziato nel Napoli. Un Milan che è stato positivo a metà, positivo più che altro per voglia, in fase offensiva per appunto la voglia di segnare, però voi per contingenze anche in questo caso un po' sfortunate, diciamo così, non ha fatto gol. Giocatori come Leao, ma anche lo stesso Pulisic nel secondo tempo si sono mangiati qualche gol, ma secondo me per l'ennesima volta sono usciti fuori i lati negativi di questo Milan. Allora, partiamo comunque da Napoli. Conte ha applicato questa novità tattica quest'anno, quindi con questo 4-3-3, ma con Politano che in fase di non possesso ti va a fare il quinto di difesa, in questo caso Quaraceglia va a scalare a centrocampo e Anghissà va a fare il centrocampista di destra, anzi diciamo di destra, bar di centrodestra, lasciando sempre quello spazio di innalzamento, diciamo così, per Politano. Cosa molto intelligente, dopo tutto penso che Conte sia uno dei migliori allenatori a livello tattico che trova queste soluzioni facendo leva appunto sul giocatore stesso, motivandolo, cucendogli addosso questi ruoli un po' particolari e secondo me è la cosa più bella di Conte. Poi il Napoli ha giocato molto in contropiede e non voglio più sentire dire da parte di fenomeni giornalisti e Motta vince in contropiede perché il, come si chiama, Conte non giochi in contropiede? Inzaghi non giochi in contropiede? Quindi ecco, difensori di Allegri fatevi da parte. Però insomma, questa novità tattica del Napoli a me piace tanto. Con un Lukaku veramente strabordante, comunque forza fisica. Quando Lukaku è in forma è un treno merci. Troppo troppo che cade un po' di forma diventa un ectoplasma. Per quanto riguarda il Milan, tanti lati negativi. In primis io mi rifiuto di credere che il sostituto di Hernández sia terracciano. Quindi un destro a sinistra, così giovane, vabbè, ok, sarà. Ammesso che ci fosse anche Florenzi, però anche Florenzi un destro, quindi da quella parte c'è un buco. Un Emerson Royal che al netto di tutto si è preso lui per poi cedere Calulu. Ok, sì, bella scelta. E anche il fatto che poi Fonseca abbia deciso, abbia optato per mettere Musa terzino destro, per mettere Pulisic e togliere Royal, è fuori del fatto che Emerson Royal ha fatto quello che non dico che non doveva fare, ma non sta rendendo quando ci aspettasse. Perché se preferisci quando devi attaccare mettere un centrocampista difensivo sulla destra di difesa, invece di lasciare un terzino in spinta e mettere un tequartista come Pulisic al posto di Musa, e beh, qualcosina vorrà dire, un Morata che si è battuto, sfortunato nel gol annullato, però comunque un Morata è l'unico che si sbatte, l'unico che si sbatte veramente tanto. In più segnala appunto l'ennesima panchina di Leao, la terza di fila e quando è entrato ha mostrato nuovamente tutti i suoi difetti. Indolente, sembrava quasi svogliato, in campo non dialoga, non dialoga con i compagni, chiama soltanto palla, passa passa, come il triangolino a FIFA, no? Ma basta, punto, non dialoga con i compagni, non cerca una trama di gioco, ecco io sentire dire, sentire definire un 19enne come il Diz giocatorino quando sento tanto incensare Leao che da anni che è mister discontinuità, a me onestamente fa un po' ridere, non perché il Diz è al pari di Leao, nel senso che il Diz deve ancora dimostrare tanto, ma questo doppiopesismo, c'è Leao e da anni che, anche in telecronica, è Leao quando prende palla, cosa fa quando prende palla Leao? Cosa fa quando prende palla Leao? Come ha detto anche per le gatti, è il peggior momento di Leao al Milan e concordo e soprattutto prende 10 milioni di euro l'anno. Ripeto, se fossi il Milan mi dovessi fare un'offerta per Leao lo impacchetto e lo spedisco e andando a vedere i due gol il primo Mignan fa la cappellata che tu in fase di pressing offensivo del Napoli la vai a passare a Morata che poi perde palla non so se l'ha presa Anghissà e l'ha passata a Gilmour o direttamente a Gilmour ma gli pari a Anghissà e poi l'ha passata a Gilmour da lì poi c'è stato il passaggio verso Lukaku che si è intrufolato verso i centrali del Milan che erano semplicemente attratti alla palla ma non da Lukaku e Lukaku ha battuto Mignan ma il tutto parte dall'erroio di Mignan perché tu in fase di pressing offensivo del Napoli non vai a passarla alla tre quarti a una punta che spalla alla porta avversaria quando sta ricevendo il pressing di un avversario attendi vieni un attimino aspetti di vedere e Mignan è al 50% complice direi 50 Mignan 25 25 Pavlovich e ciao il secondo gol bel gol di Quara per ragazzi Emerson Royale ha affrontato Quaracelia nel modo peggiore che poteva in primi si vede le immagini che guardava il portatore di palla e guardava Quara il portatore di palla Quara e non sapeva che fare a un certo punto si è messo a distanza dove gli era impossibile alzarsi in pressing su Quaracelia però ha mantenuto una distanza troppo grande e ha fatto sì che Quaracelia lo affrontassi uno contro uno mentre Emerson Royale rinculava il modo peggiore di affrontare Quaracelia perché o li vai in anticipo o li vai in cattivo o li vai in pressing cattivo se gli fai prendere palla tu arretri lui con tutta la strapotenza sulla partenza sul breve ti uccella Fofala pressing sì pressing no su Quaracelia e Quaracelia poi è tirato e ha battuto splendidamente Mignan quindi un Napoli che ha meritato anzi volevo andare a vedere con voi un dato ha meritato nel senso globale perché sono molto più cinico ma per farvi capire in primis il Milan ha avuto il 61% di possesso parla con il 39% del Napoli ma se noi andiamo a vedere le statistiche dei tempi l'XG del Napoli nel primo tempo 0,84 nel secondo 0,30 nel secondo tempo che il Milan ha attaccato molto di più ma l'XG del Milan nel primo tempo 0,31 nel secondo tempo 0,34 quindi sono dati secondo me importanti che fanno capire che il Milan aveva potuto fare molto di più con più cinismo cismo che non c'è stato il Napoli quadrato ha rischiato qualcosa perché il Milan si è stato pericoloso ma ha saputo sfruttare il Napoli appunto gli avversari e andiamo a vedere le prossime giornate di campionato il fantomatico mese di novembre che si sta per affacciare il Milan avrà Monza Cagliari Juventus ed Empoli fondamentalmente di Tosta c'è la Juve e un Empoli che può essere rognoso sicuramente ci saranno giocatori come Reinders o Tornandez al netto di alte squalifico infortuni ma secondo me nel mese di novembre il Milan potrebbe tranquillamente fare dai nove ai dodici punti l'unica cosa è il discorso della della Juve diciamo così perché con la Juve fondamentalmente è una una partita da tripla il Napoli invece che ovviamente non ha le coppe mentre il Milan in mezzo ha il Real Madrid e lo Slovan Bratislava vabbè tanto lo Slovan ce l'ha dopo si c'è la prima dell'Empoli mentre a Real Madrid dopo il Monza e dopo il Cagliari quindi una partita che potrebbe togliere forze ma li conto dopo un Cagliari che non è che stiamo parlando del Real Madrid di turno scusate del Barciano di turno quando il Real Madrid già lo affronta in Coppa il Napoli invece ha soltanto partite di campionato e ragazzi sarà un mese di vera prova per il Napoli perché avrà in primis me ne dà sei vittorie consecutive in Napoli veramente un ruolino clamoroso clamoroso in campionato perché l'unico neo è stata la sconfitta la prima contro il Verona però dopo su nove partite ne ha pareggiata una e vinte uno due tre quattro cinque sei sette otto nove 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 otto perché non era in Coppa quindi otto vittorie un pareggio una sconfitta ma adesso a novembre inizia il tritume perché avranno l'Atalanta Inter Roma e Torino ragazzi che bel mese che bel mese sì per il Napoli fondamentalmente soltanto il Torino potrebbe un pochino creare il trambusto però vuol dire Atalanta Inter Roma potrebbero essere una bella perita di punti e adesso il Napoli è a più sette sull'Inter ma l'Inter c'è una gara in meno ovviamente Inter Juventus sarà una gara in meno qui se Inter dovesse vincere la Deneba 21 rimarrebbe comunque a meno 4 e lui dovesse vincere la Deneba 20 rimarrebbe a meno 5 quindi adesso è da vedere i risultati delle prossime partite dei rivali ma con questo mese di novembre a parte il Torino che è il primo dicembre poi c'è la sosta tra il 10 e il 24 però ragazzi minchia che calendario per il Napoli fatemi veramente qui sotto nei commenti la vostra impressione sul Milan su Leao sul Napoli su Conte su cosa volete vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi